Ma io penso che questa sia una legge pessima che rende il paese più insicuro, che rende l'umanità un reato nella sua accezione del salvataggio delle vite in mare. È un paese che si prepara a essere sempre più autoritario. Questo è il disegno di Salvini, delle menti che lavorano accanto a lui e di un movimento politico che ha scelto di essere sgabbello politico della Lega e di Salvini. Io credo, non so più come dirlo, io l'ho detto anche a loro. In alcuni incontri che abbiamo avuto, che prima si stacca la spina, prima si mette questo contratto nel recipiente della raccolta differenziata politica, prima il paese può costruire un'alternativa. Altrimenti si rischia che da un giorno all'altro ci ritroveremo nel baratro oscurantista in cui le restrizioni sempre più forti delle libertà civili non saranno solo propaganda politica, ma saranno un dato giuridico della nostra città. Tra la legge sicurezza, chiamiamola A, è la legge sicurezza bis, cioè la prima e la seconda, il paese già ha compiuto una svolta autoritaria. E attenzione, non solo con riferimento agli immigrati. Adesso tutti quanti stanno capendo che la svolta è nei confronti delle libertà di tutti i cittadini. A Salvini piace una prova muscolare nei confronti dei più deboli delle libertà perché deve nascondere l'incapacità e l'assenza di volontà di questo governo e di questa maggioranza di contrastare il sistema criminale, di contrastare affarismi, di contrastare corruzioni e mafie. Quindi è un'operazione anche per alzare il livello della tensione sociale nel nostro paese, per preparare operazioni come dire che questo paese ha già conosciuto in cui non rispondi al conflitto sociale con il lavoro, con i diritti, con la coesione, con un paese più forte che investe, ma con il manganello, la tortura e altre forme che lui in qualche modo comincia a far rendere normali. Guardate, tutto torna. Anche la legittima difesa serve a questo. È un disegno. Quando tu cominci a dire che è uno Stato, è il ministro dell'interno che dovrebbe garantire sicurezza, dice ai propri concittadini che noi non siamo in grado di garantirvi. Tanto è vero, più vi armate, meglio è. E non vi preoccupate perché quando sparerete vi daremo la copertura politica e giuridica e impugna anche un mitra in una manifestazione pubblica per far vedere. Insomma, solo chi non comprende di politica, comunicazione e media non può pensare che qui c'è un disegno che non è solo di Salvini ma di menti anche piuttosto studiate a tavolino che stanno lavorando per questo. Però per fortuna l'Italia non è solamente questo, è anche altro. Io credo che si stanno preparando le condizioni per l'alternativa a questo tipo di governo.